direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza Mastai in Roma questa è l'estrazione di Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del Super Enalotto. Prima di procedere con l'estrazione vi ricordiamo ancora Natale 100% di Super Enalotto Superstar. Solo sabato 19 dicembre in palio ben 100 premi garantiti da 100.000 euro ciascuno. Potete partecipare convalidando una giocata Super Enalotto con Superstar valida per questa iniziativa speciale. Mancano ancora pochi giorni. Conservate le ricevute con i codici alfanumerici. Ed ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi martedì 15 dicembre. 77.023.385 euro. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 132. Inizia il mescolamento automatico delle sfere. Stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly. Tenete strette le vostre ricevute. È in arrivo il primo numero. Il primo numero estratto è il numero 47. Siamo al secondo numero. Con Super Enalotto si inizia già a vincere. Il secondo numero estratto è il numero 51. Il terzo numero sta arrivando. Il terzo numero estratto è il numero 85. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto è il numero 16. Adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto è il numero 80. È il momento di incrociare le dita. Stiamo per completare la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 10. Dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. Il numero jolly estratto di questa sera è il numero 4. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione. È il numero jolly. 47, 51, 85, 16, 80, 10. Il numero jolly è 4. Ed ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. Procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite su prenalotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna. Pronti? Il numero superstar estratto di questa sera è il numero 23. Ricontrolliamo tutti i numeri estratti. Il concorso numero 132 in ordine crescente. 10, 16, 47, 51, 80, 85. Numero jolly 4. Numero superstar 23. L'estrazione di oggi, martedì 15 dicembre, termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 77 milioni di euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati. Poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 132. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del supernalotto assegna 411.639 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 77 milioni di euro. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di supernalotto non è stato realizzato. Il jackpot cresce ancora per arrivare a... 78 milioni 400 mila euro. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1. I 5 sono 8 e vincono 22.558 euro ciascuno. I 4 sono 547 e vincono 335 euro ciascuno. I 3 sono 21.303 e vincono 25 euro ciascuno. I 2 sono 339.037 e vincono 5 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state assegnate ben 13.388 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella. L'unico 4 stella vince 33.501 euro. I 3 stella sono 147 e vincono 2594 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 2373 due stella. 10 euro ai 15.451 uno stella. 5 euro vanno ai 32.772 zero stella. Vi ringrazio per essere stati con noi. Suprena Lotto vi dà appuntamento a giovedì 17 dicembre. Giacoremo per un jackpot di 78.400.000 euro. Arrivederci. Giacoremo per un appuntamento a giovedì 17 dicembre.